Sono pronta ad illuminare a festa il centro cittadino di Vallo della Lucania per rendere unica ed indimenticabile la festa del Santo Patrono. Con i festeggiamenti di San Pantaleone si rinnova l'atteso appuntamento con le luci d'autore, quest'anno curate dalla ditta Rocco de Filippo di Mercato San Severino, che proporrà lo stile delle luminarie baresi per la prima volta nel centro occidentano. Una meravigliosa ed imponente struttura luminosa con un tunnel a due volte della lunghezza di 42 metri per circa 20 di altezza in Piazza Vittorio Emanuele, oltre 200.000 led con eleganti colori. L'accensione musicale sulle note di famosi brani classici e moderni è prevista per domani, martedì 26 alle ore 21.15 e sarà replicata mercoledì 27 dopo la solenne processione e giovedì 28 alle 21.30. L'accensione delle luminarie in Piazza Vittorio Emanuele segneranno di fatto l'avvio dei solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono, che culmineranno mercoledì 27. La nostra emittente, con inizio alle ore 11, proporrà in diretta dalla Cattedrale la solenne celebrazione presieduta dal Vescovo Ciro Miniero e animata dalla Scuola Cantorum San Pantaleone. In serata, con inizio alle ore 19, la tradizionale processione, 23 statue saranno portate in processione per le principali strade cittadine, al seguito del Santo Patrono. Grazie all'impegno del Comitato Festa sarà garantito anche lo spettacolo dei fuochi pirotecnici. Lo spettacolo si terrà in località Cognulo, nei pressi del Bivio per Angelara. I fuochi saranno sparati alle ore 24, subito dopo la fine della prima parte dello spettacolo della Grande Orchestra di Fiati, pronto a riprendere l'esibizione in piazza subito dopo lo spettacolo pirotecnico. I festeggiamenti civili culmineranno il 29 con il concerto di Clementino. Tra le iniziative che procederanno ai solenni festeggiamenti in onore di San Pantaleone, merita attenzione lo spettacolo di videomapping in 3D che si terrà questa sera in piazza Vittorio Emanuele con i ragazzi del Rotaract Vallo Cilento.